Buongiorno, buongiorno con le stelle, rubrica astrologica a cura di Monica Marillis. Buona giornata e buon venerdì 5 novembre 2021. Io sono Monica Marillis e questa è la rubrica astrologica Buongiorno con le stelle. Oggi è un'interessante giornata a livello astrologico perché per quanto la luna sia ancora nel segno dello scorpione dove si è verificata ieri la luna nuova e quindi siamo ancora nel pieno dell'energia della luna nuova per cui se non l'avete fatto ieri potete dedicare anche oggi 5-10 minuti per meditare, riflettere sulle vostre intenzioni, sui vostri intenti di questo mese, cosa volete manifestare, su cosa volete concentrarvi, ricordando che lo scorpione è un segno del mistero, un segno delle profondità, soprattutto quelle dell'animo e quindi possiamo dedicare queste intenzioni soprattutto a riscoprire o a scoprire ex novo delle risorse che magari non abbiamo ancora visto di noi stessi e anche la nostra, questo termine molto usato, resilienza, è sicuramente un termine in sintonia con lo scorpione, perché è un segno capace di morire e risuscitare, di cadere e rialzarsi sempre. Dicevo che è una giornata interessante perché per quanto la luna sia sempre dello scorpione e gli altri pianeti siano più o meno nelle stesse posizioni abbiamo comunque un cambio, un cambiamento di segno da parte di due pianeti veloci ovvero Venere che entra in capricorno alle 11.43 e Mercurio che entra in scorpione alle 23.34, in particolare Mercurio che ha visto il rallentamento il mese scorso è rimasto parecchio tempo in bilancia al contrario del suo solito perché era in moto retrogrado ovvero apparentemente sembrava tornare indietro, tornare sui suoi passi così come noi vediamo ovviamente il cielo dalla terra. Quindi abbiamo diversi valori in scorpione in questo momento, a partire da stasera con Mercurio, abbiamo ovviamente il sole e la luna e abbiamo Marte e appunto Mercurio, quindi questo è il periodo dell'anno autunnale in cui le energie sono tutte volte al declino, al disfacimento ma è questo il modo più naturale per rinascere appunto, è necessario lasciare andare, lasciare disfare le cose periodicamente per poi rinascere, rivitalizzarsi e rinvigorirsi e questo è proprio il momento del lasciare andare. Quindi anche a livello psicologico emotivo concentriamoci su quello che ormai è diventato solo un peso e anche in medicina cinese il ci stantio, il ci vecchio, cioè l'energia che ormai è diventata statica non solo non serve più a niente ma è addirittura dannosa perché forma dei blocchi energetici. Ecco la natura ci dice questo in varie forme, dobbiamo lasciare andare, dobbiamo anche lasciare chiudere delle situazioni, potrebbe essere una relazione, potrebbe essere un lavoro, potrebbero essere delle amicizie, qualsiasi cosa che sia arrivata a un punto morto va lasciata andare proprio per lasciare spazio al nuovo che presto emergerà. Mercurio nello scorpione accentua l'intelligenza che è proprio di questo segno, è uno dei segni più acuti, più lucidi, più percettivi dello zodiaco e Mercurio nello scorpione è in esaltazione quindi vede rafforzate le sue peculiarità che sono quelle della comunicazione e appunto della percezione dell'intelligenza. Inoltre Venere entra in Capricorno che invece non è forse la posizione migliore per Venere, Capricorno è un po' rigido, un po' duro, un po' chiuso ma molto solido e quindi Venere quando entra in Capricorno si riveste di questi tratti, quindi diventa più attenta ai gesti concreti e meno desiderosa di parole, di poesie o romanticherie e invece un'affettività, Venere rappresenta appunto il nostro modo di amare, la nostra affettività, il nostro modo di relazionarci con gli altri. Ebbene questo diventa più attento ai gesti concreti e non si accontenta delle buone intenzioni o delle parole, vuole vedere qualcosa di vero, concreto, pragmatico. Mercurio e Venere, quindi Mercurio e Scorpione e Venere in Capricorno sono in buon aspetto tra loro, quindi possiamo aspettarci una ventina di giorni di fluidità nelle nostre comunicazioni, nelle relazioni. Di questa fluidità, di questo scorrere delle parole ma in sintonia con le azioni, dove appunto mente e cuore sono finalmente allineati, ebbene si giovano soprattutto i segni di terra ed acqua e quindi stiamo parlando di segni di terra, quindi Capricorno, Toro e Vergine, e segni d'acqua, Scorpione, Pesci e Cancro. Fate le debite eccezioni, purtroppo ai me le solite di questo periodo, ovvero i segni che hanno in diretta opposizione alcuni di questi pianeti, soprattutto quelli più lenti, ebbene loro fanno un pochino più fatica a integrarsi in questa fluidità. Sto pensando per esempio al Cancro, che ha comunque Venere e Plutone in opposizione, e sto pensando anche da un lato a Toro e Scorpione, che si vedono fronteggiare nei rispettivi segni dei bei pezzi da 90 del cielo, ovvero nel Toro c'è Urano, un pianeta lento, e nello Scorpione ci sono appunto questi quattro pianeti veloci, che però soprattutto l'opposizione Sole-Urano che abbiamo anche oggi, e poi più avanti, tra un paio di settimane, l'opposizione Marte-Urano potrebbero indicare un irrigidimento delle tensioni, insomma sarà un pochino esplosiva come opposizione, soprattutto penso a quella Marte-Urano. I segni che risentono in modo più acuto delle conflittualità che si possono creare nelle loro esistenze, sono i segni, soprattutto sto pensando alle quadrature, cioè alla posizione di distanza di 90 gradi tra soprattutto Scorpione e Toro, e sto pensando quindi ai segni dell'acquario e del leone, che sono quelli già, o meglio più il leone che l'acquario, perché l'acquario ha dalla sua la presenza nei suoi gradi di Giove e Saturno che comunque portano stabilità e portano anche espansione. Ma il leone che in questo momento è sguarnito di pianeti, non sta passando alcun astro nei gradi del leone, ebbene il leone può sentire in particolare questa pressione creata dalle conflittualità celesti che si riflettono poi sulla nostra vita. Chi invece non risente in modo particolare ma non beneficia nemmeno in modo particolare di queste presenze nei segni di terra e d'acqua sono il Sagittario, la Bilancia, i Gemelli e l'Ariete, che però proseguono tranquillamente seguendo i loro obiettivi. Ho nominato Urano dicendo che è il più veloce tra i pianeti lenti. Allora nell'antichità i pianeti erano sette, comprendendo sia il Sole che la Luna, ovvero i pianeti che si vedevano occhio nudo e questo era quindi fino a Saturno, quindi comprendeva Sole, la Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno. Dal 1700 in poi con gli strumenti ottici a disposizione si è cominciato a scrutare il cielo andando più lontano della vista e hanno cominciato a scoprire altri pianeti tra cui Urano. Il primo è stato Urano. Urano che è è stato scoperto poco prima delle rivoluzioni americane e francese ed è quindi stato messo in connessione simbolicamente con qualcosa di esplosivo, di imprevedibile che può deflagrare nella vita personale o anche nella società. È stato messo poi in connessione anche con la circolazione e in particolare nell'astrologia che sei nel metodo che seguo, quello di Lisa Morpurgo, è stato messo in relazione con le mani e quindi con la capacità tecnologica dell'uomo che grazie alle mani ha potuto costruire gli strumenti e quindi avvantaggiarsi in questo senso e quindi Urano è collegato alla tecnica, all'abilità manuale, alla tecnologia per estensione di questi simbolismi legati appunto alle mani. Ma Urano è anche il pianeta che diciamo è l'ultimo tra i pianeti del nostro zodiaco di cui possiamo sperimentare i transiti nell'arco della nostra vita perché il suo passo che è di circa sette anni in ogni segno dura appunto 84 anni per fare il circolo completo, il giro completo dello zodiaco ci mette 84 anni che è all'incirca l'età media a cui arriva l'uomo soprattutto di questi tempi. E se avete notato ho detto che rimane sette anni in ogni segno. Il numero sette che è legato anche ai cicli di Saturno ma diciamo che Saturno mette circa sette anni a percorrere un quarto dello zodiaco e poi fa il giro completo dello zodiaco in 28 anni e mezzo, 29 circa, che è comunque l'età in cui noi ci assumiamo le prime responsabilità ed è per questo che Saturno è anche collegato simbolicamente alla responsabilità, all'età matura, al prendersi in pieno le responsabilità della propria vita. Urano percorre un segno in sette anni, ha ancora un passo regolare mentre invece i pianeti da Plutone in poi cominciano ad avere dei ritmi più irregolari, per esempio rimangono meno anni in un segno, più anni in un altro segno perché la loro orbita è molto ellittica. Quindi se avete notato sette anni sapete che è un numero simbolico molto importante, si dice anche che certe cose portano sfortuna per sette anni, per esempio penso a rompere gli specchi o cose di questo genere e sette anni sono anche il numero di anni in cui le nostre cellule si rigenerano completamente. Quindi tra sette anni le nostre cellule saranno cambiate completamente, avremo rinnovato completamente le nostre cellule. Quindi vedete che Urano è proprio in sintonia con i ritmi della vita umana che sono stati osservati fin dall'antichità, ancora prima che Urano venisse scoperto grazie a questi strumenti tecnologici. Quindi Urano rappresenta l'uomo e i ritmi della vita umana. I suoi transiti si sentono molto sulle nostre vicende individuali, per cui quando Urano è in posizione positiva o negativa, mettiamo sempre le virgolette a questi termini ovviamente, però diciamo che quando i periodi si fanno un pochino più faticosi, intensi, dove troviamo un po' di reazioni nell'ambiente, abbiamo ovviamente la possibilità di crescere, di rafforzarci, di diventare persone migliori, se prendiamo le cose con un certo spirito ovviamente. Urano si può fermare su un certo grado, quindi in buon aspetto o in cattivo aspetto ai nostri pianeti personali, anche un anno e mezzo, due. E questo quindi segnala dei periodi faticosi nel caso in cui Urano sia messo in posizione critica, conflittuale, o invece dei periodi in cui tutto fila liscio e ci sembra di avere la bacchetta magica, il tocco magico, per cui qualsiasi cosa decidiamo di fare riusciamo effettivamente a metterla in atto e tutto sembra fluire benissimo. Ecco, questo è un esempio di come noi viviamo in sintonia con i movimenti dei pianeti del nostro sistema solare, perché noi facciamo pienamente parte di questo sistema solare. Vi spiegavo l'altro giorno che lo zodiaco è composto dai segni e dai pianeti del nostro sistema solare e se lo si analizza dal punto di vista matematico e geometrico possiamo ritrovarvi lo schema del codice del DNA, quindi la doppia elica del codice del DNA e io trovo questo ovviamente meraviglioso e spero che appassioni anche voi. Ci sentiamo domani e vi auguro una buona giornata con una luna in scorpione intensa, passionale e misteriosa. E dopo il nostro buongiorno con le stelle continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia e vi ricordo che se volete un consulto astrologico mi trovate sul sito www.monicaamarillis.com oppure potete scrivermi all'email info-monicaamarillis.com